Oggi facciamo una comparazione tra Xiaomi Redmi Note 6 e Huawei P20 di mia sorella che è venuta a trovarmi quindi ce l'ha qua disponibile Allora partiamo col raccontare i telefoni Siamo con Huawei P20, sistema operativo Android 8.1, Emui 8.0 Oreo in uscita sulle 600 euro, 500 euro, adesso è disponibile su Amazon così comunque lo potete trovare in firma dalle 400 alle 500 euro, dipende dalla versione le versioni disponibili sono 128 giga e 64, giusto? Mi sembra che è solo 128 giga e su questo non ne sono proprio sicuro Comunque, chipset Kirin 970, processore Cortex-A73, sconco processore Cortex-A53 4 giga di RAM, in questo caso 128 giga di spazio di archiviazioni Schermo in orizzontale da 5 e 8 La risoluzione dello schermo è 1080 x 2244 E la densità del pixel, la distanza tra un pixel all'altro è di 428, ottima fotocamera 12 megapixel più 20, posteriore per fotografie di qualità La risoluzione delle fotografie nel massimo formato è 4.290 x 2800 fotocamera frontale 24 MP con f2 E questo f2 non l'ho ancora ben capito Comunque, registrazione dei video in 4K Parliamo di Redmi Note 6 Pro Redmi Note 6 Pro viene venuto in due versioni La versione da 32 giga con 3 giga di RAM E la versione da 64 giga con 4 giga di RAM Non chiedetemi perché hanno fatto questa cosa, però l'hanno fatta Questa è la versione 64 giga con 4 giga di RAM Con Android 8.1 MiUI versione 10.1 viene venduto Il display è appunto bello ampio Da 626 pollici orizzontali Quindi così, una buona visione Bel display anche per vedere film su Netflix Come il chipset è un Qualcomm Snapdragon 636 4 giga di RAM appunto come vi dicevo per la versione da 64 giga E 3 giga per la versione da 32 giga Entrambi espandibili fino a 256 È una combinata quindi che si può diventare una dual sim La fotocamera è la 12 megapixel più 6 Sempre con doppia fotocamera per fotografie chiaramente migliori 4000 per 3000 i pixel quindi della risoluzione E la fotocamera frontale invece è 20 megapixel f2 La registrazione dei video è 4K 2160 30 fps Quindi da questo punto di vista siamo sulla stessa linea Videocamera frontale invece registra in Full HD in 30 fps L'interessante di questo telefono è sicuramente la batteria da 4000 mAh Quindi che vi permette una durata di anche due giorni a utilizzo normale L'utilizzo intenso chiaramente le durate si abbassano di parecchio Comunque è un buon telefono Altra caratteristica particolare di questo telefono Che è disponibile con lo sblocco facciale E sensore di biometrico posto sul retro comodo Perché la posizione dove è comoda E ha un buon grip Lo sblocco facciale funziona abbastanza bene Se avete visto il precedente video In alcune situazioni con occhiali così non sblocca Però basta appoggiare il vostro dito dietro Il telefono si sbloccherà Detto questo passiamo allo speed test Ok quindi chiudiamo tutte le applicazioni Ah la cosa bella di quel telefono Io questo non lo posso fare perché non è mio E' la gestura che permettono insomma un po' di cose Comunque pulizia della RAM Semplicemente facendo queste cose qua Allora partiamo con lo speed test Apriamo le solite applicazioni Quelle più utilizzate E vediamo il funzionamento dei due device Partiamo con telefono Allora partiamo con telefono Google Maps Google Maps Whatsapp Telegram Apertura fotocamera e risoluzione Sì ho sbagliato Come vedete le risoluzioni sono molto pulite in entrambi Questa sulla pellicola che secondo me rovina un po' l'immagine Comunque questa è la come si apre Impostazioni Play Store Amazon Amazon Questo è più o meno il risultato La differenza di prezzo c'è Questo costa 200 euro attualmente Che potete trovare nel link in firma Qua sotto Su Amazon Quindi Garanzia Italia Garanzia Europa Questo invece ne costa Attualmente 400 euro attualmente Quattrocento e rotti La differenza di prezzo c'è E si vede nelle prestazioni I due device sono due device interessanti Se avete la possibilità Chiaramente qui comprate Un telefono Sicuramente migliore E in questo caso Comprate un telefono Sicuramente di ottima qualità Ma con delle prestazioni Leggermente inferiori Detto questo Vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao